Al comando delle operazioni c'è in avanti RAN RMG, allargo Ryan GV, poi anche il set di Rania Kapar, quindi Rosso Nero Egral che fa partenza veloce ed è Rania Kapar che assume il comando. C'è allargo Reno Arab che viaggia su Rosso Nero Egral, poi Ryan GV che segue, Rosso Nero, Reno Arab, RAN RMG, poi Rada di Bianca, l'errore dietro di Royal Cosmos BG, al comando Rania Kapar, quindi Ryan GV, allargo sempre Reno Arab, Rosso Nero Egral, poi RAN RMG, ancora Rada di Bianca, quindi gli altri. Con Rusty Griff che cerca di ricuscire un po' il gap e poi Regius allargo, Rayo Corr, in avanti Rania Kapar, Cesare Ferranti che prende in mano un po' la situazione, cerca di gestire il vantaggio con Rania Kapar che però se la prende tanto inizia a stiracchiare un po'. C'è poi Ryan GV, Rosso Nero Egral, dalle retrovie lo scatto di Rusty Griff e quindi Rusty Griff che persevera in terza, viene però parato sia dal runner MG ma si scopre Rosso Nero e quindi Rosso Nero che viene attaccato a largo dalla compagna di colori Rusty Griff che punta deciso in avanti. Quindi Rosso Nero prende come punto di riferimento Rusty Griff che intensifica l'azione a largo di Rania Kapar, quindi Rusty Griff che comunque va a largo e mette in difficoltà Rania Kapar, Rusty Griff che è passata su Rania Kapar che non si oppone. Quindi Rosso Nero Egral, ancora Ryan GV, poi runner MG, Renoir Rab, in avanti Rusty Griff, Rusty Griff ancora Rania Kapar, Rosso Nero Egral a largo. Quindi Rusty Griff che controlla il vantaggio sui compagni di scuderia, Rosso Nero Egral all'interno della compagna di allenamento Rania Kapar, dalle retrovie lo scatto da parte di runner MG ed è runner MG intensifica l'azione a largo proprio di Rusty Griff che prova a replicare ma runner MG insiste. Poi c'è Rania Kapar, alza la bandiera bianca intanto Rosso Nero Egral, a largo anche Renoir Rab, quindi runner MG, Rusty Griff, i due che si danno di santa ragione, runner MG che sta passando in avanti ed è passato runner MG, viene a vincere facilmente runner MG nei confronti di Rusty Griff. Al terzo posto nel finale c'è il numero 8 di Regius, 168 l'arrivo ufficioso di questa settima corsa.